Ciao ragazzi! Sono veramente una ragazza molto innovativa, ho fatto la mia interpretazione su Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza. Mi sono divertita molto a fare questo trucco oggi perché avevo queste rose in casa e mi piacciono molto le rose, però non sono un amante delle rose secche. E quindi tipo, dicevo ma che peccato, però buttarle via così cosa? Ho detto vabbè dai, adesso mi invento qualcosa e ho fatto una parrucca, tra virgolette, con le rose. Il trucco invece l'ho voluto fare sui toni del rosa, bianco e rosso e non ho voluto proprio mettere del nero. L'unico nero che ho è sulle ciglia, ma non troppo pesante, anzi ho ottenuto uno scovolino di un mascara vecchio, non c'era praticamente niente, era praticamente finito. E l'ho messo dentro il mio mascara di adesso, quindi praticamente nello scovolino c'era pochissimo prodotto, perché appunto non volevo un effetto nero. Io ho voluto fare questo trucco perché mi immagino realmente un affrodite così, mi immagino proprio che sia così, lei non ha bisogno di truccarsi, lei proprio è così. Immagino che sia nata così, ovviamente ho un concorso fantasy e ho avuto la mia interpretazione. E che cosa ho fatto per rendere il viso omogeneo ma chiaro? Ho unito un fondotinta fluido, semplicissimo, con l'acqua color bianco, unendo le due cose con sopra un po' di cipria, mi è venuto questo effetto che ho fatto una prova e sinceramente mi ha soddisfatto. Per gli occhi nella palpebra mobile ho messo come fissante proprio del gloss rosa e poi sono andata a mettere un rosa tenue in tutta la palpebra mobile, all'interno un bianco, esterno un fucsia e sopra esterno un rosso. Sono andata a sfumare il tutto e mentre sfumavo sono andata a portare il colore sulle gote. Le sopracciglia le ho lasciate del mio colore naturale e per la bocca invece ho messo semplicemente un gloss, semplicissimo ma di quelli leggerissimi. Ed eccoci, il mio cap è questo qua, spero che piaccia a tutti e spero che piaccia la dimension. Grazie per questo concorso, mi sono molto divertita. Ciao, a presto! Scrivete via! Scrivete! Grazie a tutti.